Ciao a tutti amici StoffiGunner, oggi inizieremo una nuova rubrica dove parleremo dei nostri setup Oggi principalmente il suo Oggi inizieremo col mio e poi vi mostreremo anche degli altri Andiamo subito a vedere scarpe Scarponcini, dei classici scarponcini Non so neanche che marcasino Cucina, questa qua Comprarli al Deca, l'uomo è 15 euro, me ne sto fregando altamente Funzionano benissimo, fanno il loro lavoro Ah, sanno anche sporcare, guardiamo qui Sì, diciamo che non erano tanto puliti però Poi possiamo notare subito la sua mimetica La mia mimetica della Emerson Combat Pants della Emerson Con ginocchiene integrate, belle giacattate Dopo pochissimo utilizzo Quindi servono, posso guardare Saliamo subito e vediamo la fondina rigida Con la mia 1911 Della TAC Master Bellissimo Poi possiamo subito vedere Il suo Il mio fucile Lo scara Con il prolungamento di canna Prolungamento canna Silenziatore Luce tattica fatta da me Con un attacco Un attacco per l'ottica L'ottica del cecchino Con Glipp anteriore Riffle Scope 552 Esatto Guanti Con relazione TAN Guanti Della Royal Con nocchie rinforzate E buchi traspiranti Per le dita Anche se non ho capito A che servono Se sono a mezza dita Comunque Possiamo vedere poi La nostra Combat Combat shirt Della Emerson Sempre Qui Si possiamo vedere Emerson In carta Qui Occhiali Royal E dei semplicissimi occhiali Royal Per produzione facciale Poi andiamo al Ciras Toglierlo dalla sedia Vediamo Eccolo qua Il mio bellissimo Ciras Con una pezza Italiana Esercito italiano Poi i miei Quattro caricatori Per il mio SCAR Quello Tutti in colorazione TAN Possiamo notare subito Che è in colorazione TAN Anche il tattico La tasca grandissima Dove tengo Di solito le batterie O Spegni fiamma O anche questo piccolo Cofanetto Possiamo dire Un tasca Dove tengo Dei cerotti Una carta E del laccino statico Per In caso Ferimenti Poi Beh Salto a vedere Una radio Che uso per parlare Con i miei compagni Adesso Ne arriveranno altre Si Ne arriveranno altre Poi Giappone 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 Il mio caricatore Per la mia colt AC2 E questo L'altro mio caricatore A gas Per la colt Che è Ottima cosa Che li tiene tutti e due Qui possiamo vedere Il Sintraverso Il fil di ferro Che serve per tenere Unito tutto il tattico Poi Vabbè L'america multicam Ehm Stop L'america multicam Ehm Cioè Si ambienta In molte ambientazioni Perché Cioè Sia E' molto sul verde Che Anche sul Tan Quindi sul desertico Proprio desertico No Ma Ma A buona ambientazione Ehm Ci ambienta quasi ovunque Va Possiamo dire questo E' un'america Che io consiglio Ehm Direi che con Questo Abbiamo concluso Alla prossima Al prossimo video Ciao Ciao